buongiorno ragazzi eccomi qua adesso forse ce la faccio anche a parlare mascherine contro mascherine siamo pronti a diciamo come al solito attaccare col lavoro risultati di ieri adesso vi metto le foto ovviamente solo su patreon e i risultati direi che confermano ampiamente quello che c'eravamo prospettati ho veramente preso una quantità forse anche esagerata di diciamo di olio di cocco o burro di cocco non mi veniva al termine e proprio un po stufato il gusto però diciamo come dico sempre buttarla giù e non pensarci più e niente mi sembra adesso poi metto le foto comunque già nel primo pomeriggio o comunque nel primo nel pomeriggio quando ho fatto il primo dosaggio che sono arrivato a casa direi che fosse abbondantemente oltre il 2 quindi 2 4 eccetera e la sera diciamo che poi ovviamente ho continuato il fat fasting però diciamo a un orario neanche eccessivamente in là quindi in progressione 3 1 direi che questa è la dimostrazione che aumentando un po il substrato energetico poi i chetoni arrivano sensazione fisica decisamente identica quella sulla settimana poi ci sono ovviamente piccole variabili meno stanco più stanco dormito meglio dormito peggio però diciamo sostanzialmente l'energia non ho avvertito tutto questo cambiamento focus mentale forse forse lì sì a livello di energia diciamo come sprint come cosa forse intangibile direi che ho questa settimana ho dormito meglio non ho fatto turni notturni e quindi diciamo è cambiato tutto però diciamo bisogna vedere un po la cosa nella sua globalità e direi che diciamo continuo ma non ho neanche poi voglia di scoppiarmi tutto questo burro di cocco ormai per cui anche se rimanessi poi su valori leggermente inferiori non mi importerebbe chiaramente poi proseguendo un un fasting ad acqua si andrebbe molto più in su secondo me diciamo adesso poi voglio vedere diciamo sicuramente il dosaggio lo faccio stasera ma con un fat fasting diciamo alla fine poi o ti ingozzi o probabilmente ti fermi lì e anzi probabilmente tornerò leggermente indietro perché oggi faccio tutto il giorno fuori e devo macinare parecchio quindi che toni ne userò quanto burro di cocco preso ieri tenetevi forte perché sono otto cucchiaini belli pieni durante la giornata distribuiti due ore al mattino due ore appena due due ore al mattino due cucchiaini al mattino due appena sono arrivato a casa due prima del dosaggio poi due a cena quindi diciamo direi che a cena lasciamo perdere la cena la cena non c'era mi piace pensarla così e niente vi metto le foto e diciamo continuiamo a valutare la situazione diciamo nel suo evolversi e con questo vi abbraccio una buona giornata spero ieri di avervi dedicato sufficientemente sufficientemente tempo mi sono impegnato vi ho messo un po' di cose e viva Sifrid bella non ancora guarda bene con l'applicazione che suggerisce lui il concetto poi alla base poi vabbè ci ritorniamo però ognuno per essere tranquillo deve misurare poi lui vabbè parla del blood ketone index quindi diciamo bisogna fare un rapporto secondo me lì ma non voglio perché io l'ho fatto una volta che sai come reagisce il tuo corpo ketone sai automaticamente a che punto sei come glicemia perlomeno diciamo nei miei studi vale vale questo poi certo se uno ha strisce da buttare via e voglia e tempo perché no poi alla fine in effetti quelle del glucosio costano meno però vabbè discorsi già già sentiti e risentiti con estremo orgoglio vi saluto dicendo che lui conferma la i risultati di quel purtroppo unico ospedale che viene menzionato a istanbul proprio perché a istanbul non ti arrestano se non fai la classica terapia agli stati liti proprio ti arrestano quindi c'è forse la radiazione guarda noi non è che siamo tanto meglio anzi diciamo a volte siamo addirittura più lasciamo stare e quindi diciamo pur adottando magari un protocollo leggero non so se andano qualche pillolina per dare per giusto dire che fanno anche loro la chemioterapia adottano queste queste strategie che ormai sono sono note probabilmente avranno introdotto qualche composto chimico nuovo però diciamo la situazione quella lì quindi anche con una situazione di pump and release o qualcosa del adesso non mi ricordo se si esprime così comunque per per il discorso del glutamato ma per chi mi chiedeva la chetogenica diciamo come efficacia terapeutica vabbè sulla charlie foundation se volete vedere i video tipo questo qua è ovviamente dirimente diciamo che ti spiega bene come funziona soprattutto diciamo per il neurone poi c'è un altro video che volevo mettervi ve lo metterò ricordatemelo sulla sull'efficienza del neurone in chetogenica terapeutica niente sono molto soddisfatto ci aggiorniamo spero in serata perché poi oggi si trotta ciao buona giornata a tutti buon lavoro un abbraccio doc andrea ribitz